Tu, brutto bastardo, come hai potuto? Lei non può morire. Misericastain non può morire. Eni, nell'Ottocento, spesso le donne morivano di parto. Ma è lo spirito che è importante e il suo spirito è ancora vivo. Non la voglio il suo spirito! Io voglio lei! E tu me l'hai ammazzata! No, non sono stato io. E chi è stato? Nessuno. È successo, lei è scivolata via. Scivolata via! Scivolata via! Lei non può scivolare via, sei stato tu! Tu l'hai uccisa! Tu l'hai uccisa! Sei stato tu! Sei stato tu! Hai ammazzato la mia misericordia! No, no, no! No! Credevo che fossi buono. Ma tu non sei buono. Sei soltanto un altro schifoso bugiardo. E io per un po' non voglio stare vicino a te. E non ti illudere che venga a cercarti qualcuno. Né i dottori, né la tua gente, né la tua famiglia. Perché non li ho mai chiamati. Nessuno sa che sei qui. E ti conviene sperare che non succeda niente a me. Perché se muoio io, muori anche tu.